buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale youtube farò queste friselle con la semola semola di grano duro di altamora inizio con un autolisi quindi vado ad aggiungere l'acqua piano piano la metterò quasi tutta fino a inumidire la farina userò la ricetta di fulvio marino che ho visto eseguire questa queste friselle in tv però farò dei cambiamenti perché i tempi di lievitazione non non mi corrispondevano sapete che sono sempre relativi in base al in base alla stagione in base alle temperature quindi farò dei cambiamenti in questo in questo campo ok ho bagnato quasi tutta la farina e adesso la coprirò copro la ciotola e lascio per un'ora eccoci qua è passata un'ora vedete come già si è compattata la farina finisco di mettere l'acqua poi alla fine vedo come la semola è un buon assorbimento di acqua credo che ne metterò un pochino di più dei 3 40 previsti e poi vi scrivo quanta ne metto la dose giusta ho messo anche lievitomateri e pezzettini e vado bruciato in planetaria questo impasto si può fare tranquillamente anche a mano questa volta io userò la planetaria quindi vedete l'acqua è finita me ne aggiungo altri 10 10 grammi e arrivo a 350 anche perché ho usato la pasta madre solida e nella ricetta fulvio ha usato il licoli che è più idratato ecco perché i 3 40 quindi io ne userò 350 a questo punto dopo aver girato un pochino metto anche il sale e l'olio e faccio girare ancora voi se vedete l'impasto è duro potete anche aumentare un pochino l'acqua non tutte le semole assorbono allo stesso modo ok dopo aver girato per benino in circa 10 minuti tolgo l'impasto lo piego così e lo metto nella ciotola ok e adesso lo faccio riposare due ore almeno due ore sia in inverno anche tre dopo di che lo riprendo come vedete non è cresciuto tantissimo però si è rilassato sta iniziando la lievitazione vedete ci sono i buchini lo metto sul piano di lavoro e faccio le pezzature allora la grandezza delle friselle potete tranquillamente sceglierle sceglierla voi farle anche più piccoline addirittura più grandi però una misura media diciamo che ecco è quella che sto facendo io sto intorno ai 220 230 grammi cerco di aggiustare un pochino il peso senza stargli grammo più grammo meno allo stesso insomma però se vogliamo fare le precise aggiustate il peso preciso ce ne vengono quattro con questa dose ok ecco qua e adesso vi faccio vedere che metto un po di semola ma non troppa le arrotondo come per fare un panetto farò un panetto tipo quelli che si fanno per la pizza così arrotondate ecco qua e poi le appoggerò su una teglia dove ho messo la carta forno e un po di semola e le lascerò ancora lievitare quindi le copro con un telo e le lascio lievitare finisco tutto il lavoro ho messo i guanti scusatemi li avevo dimenticati prima ecco qua bene e adesso naturalmente hanno bisogno di riposare ancora dovranno rilassarsi si dovranno gonfiare un pochino e vediamo quanto tempo ci vuole ci metto un telo sopra naturalmente con il lievito di birra sarebbe ci vorrebbe mezz'ora o un'oretta ma con la pasta madre come sapete i tempi sono più lunghi non mi chiedete le dosi perché non ho mai usato il lievito di birra quindi non so non mi sono addentrata nella cosa allora passato il tempo le riprendo e le lavoro così perché vado a formare adesso la ciambella meno meno semola perché se no non si non si allungano le allungo così le ho piegate come avete visto e ora le allungo e le attacco e le rimetto direttamente sulla carta forno dentro la teglia continuo ok come avete visto abbiamo già fatto due fasi di lievitazione quindi la prima poi la seconda dei pianeti e adesso e adesso ce ne sarà una terza ecco qua vedete sono con questa dose sono quattro ciambelle abbastanza grandine ci viene una bella frisella e le lascio alla fine le lasciate due ore eccole qua si vede occhio quando sono pronte calcolate che stiamo siamo oltre metà giugno quindi le temperature sono abbastanza altine ok le faccio cuocere a 250 per 20 25 minuti ma dipende molto dai vostri forni non ho messo vapore quindi non ho spruzzato vapore ed eccole sono quasi cotte questa è la prima cottura e perché poi ci sarà la seconda per biscottarle e adesso vado ad aprirle a spaccarle a metà sono ancora calde aspetto giusto un paio di minuti ma vanno aperte vanno tagliate a metà calde adesso vi faccio vedere perché io li taglierò con un coltello semplicemente ma di solito si taglia con lo spago sul mio canale c'è un'altra ricetta dove uso lo spago per tagliare qui farò con il coltello scotta molto scottano ancora mi aiuto con un cane vaccio ok allora vanno tagliate calde perché deve la mollica deve trascinare e creare quell'effetto frastragliato diciamo così vediamo ecco vedete deve essere proprio così perché rimane proprio rustica quindi se la tagliate fredda non otterrete questo questo effetto bene continuo le taglio tutte e poi ho accesso il forno abbassato a 180 le metterò direttamente sulla sulla griglia del forno sono belle una misura giusta questa eccole qua e le faccio stare fino a tostatura una quindicina di minuti non le facciamo seccare troppo perché sennò diventano troppo dure belle sono venute molto belle carine no ok bene a questo punto non resta che farcirle come meglio crediamo mettiamoci sopra tutto quello che volete io l'ho fatta un po semplice con i miei pomodori i primi pomodori dell'orto basilico un po di mortadella con il pistacchio naturalmente sapete che vanno bagnate all'acqua ma appena in tinte non devono essere impregnate di acqua appena appena bagnate bene amici vi ringrazio della visione ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video ciao ciao